Io voglio solo vincere, però ho sbagliato tante volte oggi. Il calcio è così, io lavoro duro tutti i giorni perché voglio fare più gol per la mia squadra. E oggi, però, sono contento, tutti contenti perché vinciamo per i primi tre punti. Ci spieghi il calcio di rigore? Il tuo protagonista, cosa è successo? Di Cesare ha detto che non hai fatto niente. Ma no, non voglio parlare molto perché mi ha detto Roby. Secondo me non è rigore, però ancora calcio così, vinciamo, sono contento.